Come sei messo con il latino? Alla gra... Sì, ve l'amore di Dio! Latino, vabbè, ma questa è una cosa che si sente dire molto spesso, no? Cosa significa mea culpa? È facile, dai, mea culpa? Mea culpa è lo diano in chiesa. Sì, ma che cosa significa mea culpa? Ascolta la parola e traducila praticamente in italiano, facile. Mea culpa... Mea... Mea culpa! Quindi? Mea culpa. Mea culpa. Quindi? Giralo. Non mia colpa, ma... Di prima l'altra parola. Di prima come? No, no, giusto, mia colpa. Però per essere precisi devi dire... Non mia colpa, ma... Mia. Quindi? Giralo. Non ce la faccio. No, 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 hai indovinato. Devi soltanto girarmi... Non dici mia colpa. Ma dici... Ma dici... È stata... È stata... Non dici è stata mia colpa. È stata... Ma la vuol dire l'acchi. No, 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 è sempre tua la colpa. Quello è sempre tu. È sempre mia. Però mi devi dire non mia colpa, ma prima la seconda parola e poi la prima. Mia colpa? No, è... Mia colpa? Girala. Prima di quella con la C e poi quella con la M. È indovinato. Non ci sono nemmeno se vado nel colberto. No, no, hai indovinato. Però mi devi... Allora, te hai detto mia colpa? È. È. Non dirmi mia colpa, ma dimmi... Prima dimmi una parola, poi l'altra. Quindi sono due. Non mi dici mia colpa, ma mi dici... Colpa. E poi? Mia. Ah, esatto. Colpa mia. Perché non si dice è mia colpa, si dice è colpa mia. È ora che ci sia arrivato ora, però. Appunto, riconoscimento di colpevole. Ma tanto? Uno, due, tre. Dai, dai, dai. Carta numero uno, carta numero uno. Era giusto anche mia colpa, ma non si dice mia colpa, no? Si dice colpa mia. Fammi un rullo di tamburi se può. Peccato, niente da fare. Ciao, grazie lo stesso Nelio. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Grazie. Allora, mescoliamo le carte. Pronto?